Seduta del martedì che ha visto la Fiorentina lavorare ancora una volta sotto la pioggia incessante che in queste ore sta colpendo Firenze e non solo. La squadra di Montella è scesa comunque sul campo di lavoro alternando la seduta in palestra e dividendo la rosa viola a gruppi, tanto potenziamento quindi e qualche esercizio di possesso palla con spazio anche alla parte atletica. Domani mattina la Fiorentina tornerà nuovamente al lavoro per proseguire la preparazione alla sfida in programma sabato sera contro la Roma alle 20.45. Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!